Siamo in Mondovisione collegati con Bacarello e il nostro barista di Baugiano, signor barista di Baugiano, ecco, si comincia subito male, è in Mondovisione, attenzione, Baugiano, come va? Però è proprio che c'ho da chiudere, da una scienciana se ribandone e mi levo da coglione, ha capito? Ma a meno un caffeino ce lo faccia, via, su! E ho pulito la macchina da ora, l'ho pulito ora, non te lo posso fare! Non la pulisce mai, oggi l'ha pulita! Ma tu lo dici te? Tu lo dici te? Allora mi faccio una grappa per digerignare meglio! E vuoi ti fa una grappina con il moscerino dentro? Gli è più saporito il moscerino della mosca! Ma sentito di... Gli competenti ci mettono la mosca, io uso moscerini perché gli è più saporiti! Senta, lasci fare, guardi, lasci fare, che schifo! Ma, allora, c'ho le paste se tu le voglia, le hanno di ieri, le hanno paste secche, te le fa ne metto a metà presto! Ma se ne mangi lei le sue paste, che schifo! Senta, mi dico una cosa, ma lei durante il giorno, quanti scontrini fiscali fa? Ho te con questa faccia a culo per puliti i visi che tu usi la cartigenica! Ma non lo faccia, lo splendido! Allora, l'HCCP, lei ce l'ha o non ce l'ha l'HCCP? A me i partiti della politica non me ne frega nulla! Sì, va bene, andiamo avanti! Allora, sappiamo che lei è stata in vacanza in Cina, ci racconta un pochino che ha visto in Cina! Sono arrivato in Cina, coso? Non c'era nessuno, un mortorio, un silenzio, e sono tutto a Prato! Capito? Sono tutto a Prato! Sì, va bene, passiamo ad un'altra domanda! Ma allora, usa ancora ai bar portare il voto a rendere, tipo, io ti porto la bottiglia a vota di spuma e te tu mi rendi 50 centesimi! Lei, questi soldi, come li scarica? Ma, io non mi lascio scaricare ogni campo dietro casa, c'è un campo, meno più poco, e fa anche primati! Ma, a prima, c'è via, non dica queste cazzate, siamo a mondo visione, non dica queste stronzate! Ma tu non dici te? Non te lo puoi dire se non te lo sai! Ma tu non dici te? Allora, guardi, chiudiamo questo collegamento perché lei ha fatto una figuraccia! Chiudiamo il collegamento! Chiudiamo pazienza, disse quello si pulivi il culo core, Andro, chiudiamo pazienza, ma te lo dici te? Te lo dici te? te lo puoi dire se sto lasciando te lo puoi dire viva